L'autore del prossimo canto è Alfonso-François du Peron, che nasce nella Parigi del 1700. Fu scelto da Regolo XIV, amore, reazione e qualità di organista per non pregare i conti. Compose il testo in lingua italiana ed era troppo scambolare, adatta da gente comune e al popolo, che comunque si chiamava la comunità della primavera del giorno. Quindi un popolo che non c'erreste, per quale la sfida giornaliera alla resistenza alla propria melodia, proprio stile di vita. Lavorare in Franz Hermann, in Nord del Plasso. Buonasera a tutti. Grazie. 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 Grazie.